Gira a sinistra, Missiroli, Floro Flores No neri no stopping us Berardi con la fronte del piede 3 a 2 ancora Berardi Un ricord per lui dopo i 4 della passata Call me a shooting star Fisca Calvarese, batte Berardi con sinistro Tirarete, vantaggio che la Sassuola Esulta Berardi sotto la sua curva, siamo 1 a 0 Tanto show a losing charge Con Missiroli e Biondini nuova al campo Con Missiroli e Biondini e sarei troppo scoperto Sassuola Un regolio centrale per Berardi Ritardo a Beraguan, Berardi, calcio! Fisca Calvarese Perfetto 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 Intanto dentro Berardi, subito gol del Sassuolo, torna il gol Berardi e soprattutto torna il gol il... Sì, perché Berardi con il sinistro, è il Gartin! Mi piace di schillare, morì, ancora una volta veniva l'iccia, Berardi può cacciarlo in sinistro! Berardi, questo è losatti, ma Berardi! la sua splendida stagione Verardi 4 su 4 esibisce il nostro rigorometro il minuto da vincita di Domenico Berardi si disto di Berardi almeno di Ziegler per Kurti tocco dentro Berardi non ci si crede Boker 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 Berardi che riesce a rinforzare un pallone importante per far ripartire Berardi Berardi alla vada c'è Zazza Berardi fino in fondo Berardi lo cerca col destro anche per creare qualche difficoltà di prendere la rampa poi Berardi Berardi puoi prendere il pallone ancora Berardi contro Tacosta va Berardi tripletta a parte Berardi con il sinistro in parte invece Berardi direttamente in porta Berardi c'è il taglio di Berardi arriva prima Franco poi Berardi offre a Masucci che di tacco gli estruisce palla Favoletti in sinistro dentro e poi arrivo di Berardi anche Cianamitaro 4 contro 3 Mistioli dentro per Berardi tutto solo Berardi Valentini è dentro in area attenzione pallone però allontanato la porta è vuota attenzione come nell'occhio il ghiaccio quando viene tolto il propiere per mettere il nuovo di movimento in più la porta è vuota una situazione assurda davvero e infatti Berardi va a segnare Favoletti Mistioli palla dentro ancora gran pallone per Berardi Berardi sinistro Cannavaro sulla verticale tocco di Berardi non ci arriva Biondini ancora Berardi la mette sul mancino cerca la porta pallone forte in mezzo il pallone Mistioli è più fluida l'azione del Sassuolo quando entra sul pallone il lancio è buono Berardi avanti al portiere non sbaglia siamo 2 a 0 ancora Berardi alla condanna della Milan in contropiede infilata la formazione Grazie a tutti